ciao a tutti e benvenuti sul mio canale facciamo questi bocconcini con i fiori di zocca questo è il tempo giusto quindi ci sbizzarriamo ad usarli come vogliamo questo è il mio licoli ne userò un pochino trovate le descrizioni all'inizio e invece di fare la solida pizza di fiori o i fiori fritti farò questi bocconcini allora ho preparato la farina poi potete anche regolarvi ad occhio adesso ho pesato gli ingredienti per farvi vedere sono 200 grammi di farina e l'acqua adesso mi regolo vedo quanta quanta ne assorbe la farina è una 00 però potete usare anche la 0 vedete 100 grammi sono pochi quindi ci aggiungerò ancora acqua allora ci metto adesso questi sono all'incirca 90 grammi ne metterò solo una metà quindi una quarantina di grammi bastano ecco qua vedete l'ho rinfrescato 3-4 ore fa e adesso lo uso non è che dobbiamo fare il pane quindi basta che lievita un pochino ok allora metto aggiungo altra acqua farò una pastella non troppo non troppo liquida deve rimanere un pochino un pochino densa altrimenti le frittelle si appiattiscono quando le mettiamo quindi continuo a girare metto anche il sale con il pepe metto un pochino d'acqua o se avete la pasta madre solida basta rinfrescare 20 grammi 20 grammi di acqua 20 di farina lasciate lievitare per 3-4 ore avete licolia molto semplicemente allora adesso taglio i fiori i fiori diciamo sono 16 o 17 però regolatevi anche ad occhio perché non sono tutti della stessa misura quindi ripreparate io adesso non li ho pesati ho fatto così ad occhio li ho spezzettati vedete un po' grossolanamente ce li metto dentro poi tanto dopo dobbiamo lasciare diverse ore quindi si appassiscono e si riducono un pochino giro 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 così ci metto anche le alicette queste vanno a gusto se non vi piacciono non mettetele c'è chi ci mette il parmigiano ad esempio in questi in questi frittini di fiori ma a me non piace non piace molto l'abbinamento invece con le alicette vanno benissimo almeno per i miei gusti appiattisco un pochino copro con la pellicola e lascio lievitare io l'ho lasciati 4-5 ore ma se volete anche di più in frigo perché fa molto caldo quindi meglio metterli in frigo ed eccoli qua dopo passato il tempo li ho tirati fuori dal frigo adesso preparo l'olio olio di semi e vado a fare queste palline di fritti ho preparato la carta assorbente vedete mi aiuto con due cucchiai cercando di farli più rotondi che sia possibile tipo come quando facciamo le castagnole diciamo però se anche non vengono proprio perfetti non importa debbono friggere con l'olio bollente in modo che fuori vabbè non tanto alto perché sennò diventano troppo scuri la temperatura giusta mi sembra che non debba superare i 170 gradi io adesso non l'ho misurata però e debbono venire fuori croccanti e dentro naturalmente con il lievito debbono essere belli anche alveolati ed eccoli qua vanno mangiati caldi perché se li fate freddare poi si ammorbidiscono invece così fuori sono croccanti ne apriamo uno adesso ho tolto l'audio di sottofondo perché c'era il mio merito che parlava però vi assicuro che sono croccanti fuori guardate dentro che belli si sono venuti bene vedete tipo tipo le pettole tipo proprio tipo però con dentro i fiori e le alicette sono buonissimi facilissimi da fare io vi ringrazio per la visione ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao